Pulling up to a junction can be fraught with danger. Vedere dietro l'angolo dove l'occhio non può arrivare. E' la novità annunciata dalla Ford, che installerà a bordo di alcune delle sue auto una videocamera speciale. L'occhio virtuale sarà posto sulla griglia frontale delle macchine e permetterà ai guidatori, grazie ad uno schermo sul cruscotto, di avere una visuale a 180 gradi, vedendo in anticipo cosa si troveranno dietro l'angolo. La telecamera è molto sensibile e funziona anche quando è colpita la luce diretta o in cognizione di scarsa illuminazione, come al tramonto. Che si tratti di un pedone, una bicicletta o un'auto che sfreccia a tutta la velocità, non ci saranno più sorprese dietro l'angolo.